Musica Molti studenti, spesso indotti dagli argomenti che studiano a scuola e dal modo in cui questi vengono affrontati in classe, ritengono che la matematica sia una disciplina ormai interessante solo dal punto di vista storico o di quello applicativo. L'abitudine a sentirsi raccontare teoremi può infatti far insorgere l'idea che ormai sia stato tutto, o quasi tutto, dimostrato. Le cose stanno proprio così? Per rispondere a questa domanda prendiamo in considerazione l'aritmetica, cioè l'insieme di nozioni di base da cui muove, assieme alla geometria, la matematica. Restringiamo alla nostra attenzione allo studio delle proprietà delle operazioni aritmetiche nell'insieme dei numeri naturali. Come abbiamo detto studiando le fondamenta della logica e quelle della geometria, l'idea di poter dimostrare ogni affermazione riguardante l'aritmetica è piuttosto ingenua, perché genera un regresso infinito. Bisogna dunque partire da alcune assunzioni basilari, ritenute vere senza necessità di dimostrazione, cioè gli assiomi della teoria, e provare la validità di tutte le altre proprietà. Nella ricerca degli assiomi bisogna fare attenzione al tipo di linguaggio logico che viene utilizzato, perché esso influenza la capacità del calcolo logico di dimostrare tutti gli enunciati veri. Senza entrare troppo nei dettagli, un insieme di enunciati è soddisfacibile se esiste almeno un modello in cui i tali enunciati sono veri. Per esempio, l'insieme formato da questi due enunciati possiede più modelli. Un modello è costituito dall'insieme dei numeri naturali, interpretando l'operazione indicata dall'asterisco con l'addizione e assegnando alle variabili presenti un numero ciascuna. Il primo enunciato corrisponde alla proprietà commutativa dell'addizione, mentre il secondo ha l'esistenza dell'elemento neutro dell'addizione, che è zero. Un secondo modello è dato, per esempio, ancora dall'insieme dei numeri naturali, però interpretando l'operazione asterisco mediante la moltiplicazione. Questa volta l'elemento x cui si riferisce il secondo enunciato è l'elemento neutro della moltiplicazione, cioè 1. Si ottengono altri modelli sostituendo l'insieme dei numeri naturali con l'insieme dei numeri interi, oppure con quello dei numeri razionali, o ancora con quello dei numeri reali o con quello dei numeri complessi. I modelli che ti ho presentato sono tutti infiniti, perché formati da insiemi infiniti, ma esistono anche modelli finiti dei due enunciati. Considera, per esempio, l'insieme M formato dalle lettere V e F che rappresentano rispettivamente il vero e il falso e interpreta l'asterisco mediante il connettivo di congiunzione. Il primo enunciato corrisponde alla proprietà commutativa della congiunzione, mentre l'elemento x cui si riferisce il secondo enunciato è V. Ottieni un altro modello ancora se usi nuovamente l'insieme M e interpreti l'asterisco mediante il connettivo di disgiunzione. Qual è in questo caso l'elemento x del secondo enunciato? Se sostituisci il connettivo di disgiunzione con quello di implicazione, ottieni un altro modello per i due enunciati oppure no? Ciò che caratterizza i modelli che abbiamo analizzato è l'esistenza di un insieme che fornisce i valori alle variabili mediante i suoi elementi e un'operazione che interpreta quella presente negli enunciati. Essenzialmente, un linguaggio logico formato da simboli per variabili, simboli per relazioni e simboli logici, si dice del primo ordine se ha solo un tipo di variabili che variano sugli elementi della teoria, mentre si dice del secondo ordine se possiede anche variabili che rappresentano insiemi di elementi, del terzo ordine se ha anche variabili che rappresentano insiemi di insiemi, pensa per esempio all'insieme delle parti, e così via. Se T è un insieme di enunciati che possono essere gli assiomi di una teoria, allora un certo enunciato A si dice conseguenza logica di T se in tutti i modelli in cui valgono gli enunciati di T vale anche A. Mentre A è derivabile logicamente da T se nel calcolo logico utilizzato A è un teorema della teoria T, cioè se è dimostrabile utilizzando come ipotesi unicamente gli enunciati contenuti in T. Un risultato importante della logica del primo ordine è che ogni volta che un enunciato A è conseguenza logica di un insieme di enunciati T, allora è anche deducibile logicamente da esso. Vale anche il viceversa, il quale significa che il calcolo logico è corretto, cioè che un enunciato deducibile logicamente da T non può essere falso in un qualche modello di T. Al contrario, invece, la logica del secondo ordine non è completa, cioè esistono enunciati che sono conseguenza logica di una certa teoria T, cioè validi in tutti i suoi modelli, ma non sono deducibili logicamente da T. Per questo motivo le teorie matematiche vengono prevalentemente assiomatizzate nell'ambito della logica al primo ordine. Dopo questa lunga premessa, torniamo all'aritmetica dei numeri naturali. Abbiamo già in mente il modello, quindi dobbiamo semplicemente cercare gli assiomi della teoria. Ricordando quanto abbiamo visto nel corso di aritmetica di base, possiamo cercare di caratterizzare l'aritmetica a partire dall'elemento speciale costituito dal numero 0 e dall'operazione di passaggio al successore, che indichiamo nel nostro linguaggio dai simboli 0 tagliato e S rispettivamente. Dobbiamo esprimere con un assioma il fatto che lo 0 è il numero naturale minore, nel senso che non è successore di alcun numero naturale. Possiamo alternativamente affermare che il successore di ogni numero naturale non è lo 0. Questo è il nostro primo assioma. Ma l'operazione di passaggio al successore possiede altre proprietà. Per esempio, che se due numeri hanno lo stesso successore, allora sono uguali. E che ogni numero diverso da 0 è successore di un altro numero. A partire da questi assiomi è già possibile definire le operazioni di addizione e moltiplicazione. Si utilizza una definizione detta ricorsiva, in quanto i valori dell'operazione sono definiti a partire dall'operazione stessa. Sembrerebbe una definizione circolare, quindi senza significato. Invece le cose non stanno così, perché alcuni valori vengono definiti senza fare ricorso all'operazione. Definiamo quindi x più y essere uguale a x se y è uguale a 0 ed essere uguale a S di x più z se y è uguale a S di z. Cerchiamo di capire questa definizione a partire da qualche esempio. Per verità, indico con il simbolo 1 barato è successore di 0 barato, 2 barato è successore di 1 barato, 3 barato è successore di 2 barato e così via. Questi simboli saranno poi interpretati nei modelli dai corrispondenti numeri naturali e li ho introdotti per semplificare la pesante notazione che utilizza l'operazione S. La prima parte della definizione serve per far sì che lo 0 sia l'elemento neutro dell'addizione, mentre la seconda parte serve per calcolare una somma tra addendi non nulli. Vediamo come funziona nel caso della somma 3 più 2. Dato che 2 è successore di 1, la definizione afferma che 3 più 2 è il successore della somma 3 più 1. Se riusciamo allora a calcolare questa somma, sappiamo anche quanto fa 3 più 2. Anche questa volta il secondo addendo è diverso da 0, quindi la definizione implica che 3 più 1 è il successore di 3 più 0, ma questa somma è uguale a 3, sempre per definizione, così 3 più 1 è uguale al successore di 3, cioè 4, e 3 più 2 è uguale al successore di 4, cioè 5. Chiaramente questa definizione permette di calcolare qualsiasi somma, perché si raggiunge sempre, in un finito numero di passi, un'addizione il cui secondo addendo è uguale a 0. Questa è la formalizzazione matematica del processo di costruzione delle operazioni che ho descritto nel corso di aritmetica di base. La definizione della moltiplicazione è invece x per y uguale a 0 se y uguale a 0, mentre è uguale a x per z più x se y è successore di z. Controlla che tutto funzioni correttamente. Pur essendo riusciti a definire le operazioni dirette, la potenza può essere ottenuta in modo analogo, il sistema assiomatico non è ancora sufficiente per teorizzare l'aritmetica. Un primo problema è che non è possibile rappresentare semplici proprietà, come l'essere un numero pari oppure un numero primo. Se infatti vogliamo costruire un enunciato aperto a p di x che risulta vero solo se x è un numero pari, questo enunciato dovrebbe essere p di x uguale a esiste y tale che x è uguale a y più y. Il problema è che la definizione di addizione in termini di s permette di sommare esclusivamente numeri ben definiti da sequenze del tipo s di s di s di 0 o s di s di 0 e non di sommare quantità variabili. Quindi non si sa cosa significhi y più y. Un discorso analogo vale per l'enunciato q di x che rappresenta la proprietà di s numero primo e dovrebbe essere definito per esempio in questo modo. Per risolvere questo problema siamo costretti a introdurre nuovi simboli, quelle dell'operazione di addizione e moltiplicazione, e i corrispondenti assomi che ne stabiliscono le proprietà di base corrispondenti alle definizioni date prima. Per ogni x, x più 0 uguale a x e per ogni x per ogni y, x più s di y uguale a s di x più y per quanto riguarda l'addizione. Mentre per ogni x, x per 0 uguale a 0 e per ogni x per ogni y, x per s di y uguale a x per y più x per la moltiplicazione. In questo modo diviene possibile utilizzare espressioni come x più x o y per z negli enunciati che definiscono proprietà e dimostrare proprietà come il fatto che il successore di numero pari è disparo. Cioè dedurre logicamente dagli assiomi enunciati come per ogni x, p di x implica non p di s di x. Un secondo problema è quello di identificare l'insieme dei numeri naturali in modo univoco. cioè di fare in modo che il sistema assiomatico abbia un solo modello a meno di isomorfismo. Il fatto che non ci sia un unico modello può sembrare a prima vista strano, ma a ben pensare non è poi così incomprensibile. Infatti, se n con le operazioni passaggio successore di addizione e di moltiplicazione è un modello, allora otteniamo un modello diverso sostituendo ad ogni numero il suo doppio. L'operazione di passaggio successore con l'addizione di 2, lasciando invariata l'addizione e sostituendo la moltiplicazione con l'operazione che calcola la metà del prodotto. Con queste sostituzioni, per esempio, 0 corrisponde a 0, 1 a 2, 2 a 4, 3 a 6, 4 a 8, 5 a 10 e via dicendo. Nel nuovo modello, il successore di 6 che corrisponde a 3 è proprio 8 che corrisponde a 4. La somma di 6 e 4 che corrispondono rispettivamente a 3 e 2 è proprio 10 che corrisponde a 5. E il prodotto di 6 e 10 che corrispondono rispettivamente a 3 e 5 è proprio 30 che corrisponde a 15. Pur trattandosi di modelli diversi, la funzione che permette di passare dal primo al secondo, raddoppiando i numeri, è invertibile per mezzo della funzione che li dimezza e permette di passare dal secondo modello al primo. Inoltre, le due funzioni preservano le tre operazioni dei due modelli. Si dice che i due modelli sono isomorfi, cioè che rappresentano la stessa struttura matematica. Con costruzioni analoghe si possono trovare infiniti modelli, diversi tra loro ma isomorfi. Un modo per ottenere l'unicità del modello, in questo senso, è quello di richiedere che se un qualsiasi insieme di numeri naturali contiene 0 e il successore di tutti i suoi elementi, allora contiene tutti i numeri naturali. Questa proprietà è ovviamente valida nel modello standard dell'aritmetica, ma il problema è che stiamo cercando di definire un sistema di assomi per l'aritmetica e non sappiamo ancora quali saranno i modelli della nostra teoria. Potrebbe essercene uno che oltre ai numeri naturali contiene altri elementi. Questa proprietà, che viene chiamata principio di induzione, è facilmente formulabile nell'ambito della logica del secondo ordine, utilizzando le lettere maiuscole per le variabili che rappresentano insiemi di numeri naturali mediante questo assioma. Come ho detto, però, la logica del secondo ordine non è completa e quindi non permette di dedurre logicamente tutti gli enunciati che sono conseguenza logica degli assomi. Un altro motivo per evitare la logica del secondo ordine è quello di evitare l'uso della teoria degli insiemi implicito in tale logica, per formulare una teoria dell'aritmetica che dovrebbe parlare solo di numeri. Una teoria si dice elementare se viene formulata con un linguaggio del primo ordine. Quindi l'obiettivo si sposta nel cercare un sistema assiomatico per una teoria elementare dell'aritmetica. Dato che non possiamo esprimere il principio di induzione utilizzando un insieme di numeri, dobbiamo cercare dei sostituti per gli insiemi formulabili al primo ordine. L'idea è che un insieme possiede una proprietà caratteristica che nella logica corrisponde ad un enunciato aperto contenente una sola variabile. Allora la scappatoria consiste nell'aggiungere il seguente schema di assiomi. In questo caso A non è una variabile che rappresenta un insieme, altrimenti la logica sarebbe del secondo ordine. Questa formula non è un assioma, bensì come ho detto uno schema di assiomi, cioè rappresenta l'infinito insieme di enunciati ottenuti da questo sostituendo al segno a posto A l'espressione di un qualsiasi enunciato aperto a una variabile. Sebbene il principio di induzione sia stato aggiunto per cercare di ottenere l'unicità del modello della teoria aritmetica, la sua introduzione mette in luce una nuova tecnica dimostrativa. Osserva che ciascuna degli assiomi corrispondenti al principio ha la forma di implicazione, quindi se l'antecedente A di 0 è vero e per ogni X A di X implica A di S di X è vero, allora deve essere vero il conseguente, cioè l'enunciato A di X deve essere vero qualunque sia il numero naturale X e ciò vale qualunque sia l'enunciato A rappresentabile nel linguaggio logico adoperato. Per dimostrare allora che un qualsiasi enunciato sia vero per ogni numero naturale è sufficiente verificare due cose. Che l'enunciato sia vero sostituendo 0 a posto di X, questo è il caso base dell'induzione, e che, supponendo avere l'enunciato per un certo numero precisato X, allora esso sia vero anche per il successore di X. Questa seconda parte si chiama passo induttivo. Per capire meglio dal punto di vista intuitivo il significato di quanto ho detto puoi pensare all'esempio che tutti fanno del domino. Il passo induttivo corrisponde a disporre le tessere in modo che quando ne cade una, fatto che identifichiamo con la validità dell'enunciato per un certo valore di X, necessariamente debba cadere quella successiva, cioè l'enunciato è vero per il successivo valore di X. Il caso base e la validità dell'enunciato quando X uguale a 0 corrisponde alla caduta della prima tessera, la quale innesca la caduta di tutte le altre mostrando che l'enunciato è vero per ogni X. Ovviamente questa è solo una metafora. L'effettivo funzionamento del metodo è una conseguenza degli assiomi dell'aritmetica. Vediamo un esempio concreto dell'uso di questa tecnica di dimostrazione. Dimostriamo che la somma dei numeri naturali da 0 a n è n per n più 1 fratto 2. È chiaro che per poter parlare di somma ci devono essere almeno due addendi. Però la formula è vera se n è uguale a 0 nonostante non si faccia alcuna addizione. Indichiamo con sommatoria per k che va da 0 a n di k la somma che ci interessa. E definendo sommatoria per k che va da 0 a 0 di k uguale a 0 l'enunciato che vogliamo dimostrare è p di n uguale a sommatoria per k che va da 0 a n di k uguale a n per n più 1 fratto 2. Il caso base corrisponde alla validità di p di 0 cioè sommatoria per k che va da 0 a 0 di k uguale a 0 che lo abbiamo appena detto è vero per definizione. Supponiamo allora che p di n sia vero per un certo numero n arbitrario quindi non precisato e dimostriamo che da ciò segue la verità di p di n più 1. Dobbiamo quindi calcolare la sommatoria per k che va da 0 a n più 1 di k e verificare che il risultato è n più 1 per n più 2 fratto 2 cioè l'espressione che si ottiene sostituendo n più 1 al posto di n nel secondo membro dell'uguaglianza che rappresenta p n. La tecnica generale per condurre il passo induttivo è quella di sfruttare l'ipotesi induttiva cioè la validità di p di n. Nell'esempio che stiamo affrontando p di n ci dice come calcolare la sommatoria per k che va da 0 a n di k quindi l'idea risolutiva consiste nello spezzare la sommatoria fino a n più 1 in due addendi il primo è uguale a n per n più 1 fratto 2 per l'ipotesi induttiva quindi raccogliendo n più 1 si ottiene l'espressione richiesta abbiamo verificato che se p di n è vero allora anche p di n più 1 lo è quindi per il principio di induzione l'enunciato è vero per ogni numero naturale vediamo un altro esempio dimostriamo che il numero di regioni in cui il piano viene diviso da un qualunque insieme dato di n rette a 2 a 2 non parallele cioè che se ne prendiamo due qualsiasi esse si intersecano e tali che non esistono tre concorrenti cioè che si intersecano nello stesso punto è n alla seconda più n più 2 fratto 2 il caso base corrisponde a n uguale a 0 cioè l'assenza di rette in quell'insieme il piano non viene dunque diviso quindi c'è una sola regione sostituendo 0 al posto di n otteniamo proprio 1 quindi il caso base è valido supponiamo ora che la formula sia corretta quando l'insieme è costituito da n rette e calcoliamo in quante regioni viene diviso il piano da n più 1 rette che soddisfano le ipotesi come prima è necessario utilizzare l'ipotesi induttiva che le prime n rette hanno diviso il piano in n alla seconda più n più 2 fratto due regioni quando aggiungiamo l'ultima questa interessa che le altre in n punti uno per ciascuna delle rette così essa viene suddivisa in n più 1 parti delle quali due sono semirette e gli altri segmenti ciascuna di queste parti in cui l'ultima retta viene suddivisa separa a sua volta ciascuna delle regioni alle quali appartiene in due parti così l'aggiunta dell'ultima retta contribuisce al conteggio delle regioni in cui viene diviso il piano aumentandone il numero di una quantità pari a n più 1 facendo i calcoli allora il numero di regioni uguale a n alla seconda più 3 n più 4 fratto 2 per verificare la correttezza dell'enunciato in questo caso dobbiamo sostituire n più 1 al posto di n nella formula che volevamo dimostrare otteniamo proprio nella seconda più 3 n più 4 fratto 2 quindi anche il passo induttivo è stato verificato e la formula è corretta per ogni numero naturale n se vogliamo dimostrare la verità di un enunciato p di n dipendente da un numero naturale n per n maggiore o uguale ad un certo valore n è 0 allora possiamo utilizzare lo stesso principio su quale si basa il metodo di induzione questa volta il caso base corrisponde a n uguale a n 0 esiste anche un principio di induzione forte in realtà equivalente a quello che abbiamo visto prima chiamato debole per contraposizione nel quale il passo induttivo utilizza la validità dell'enunciato per ogni numero naturale minore o uguale a n per dedurre la sua validità in corrispondenza di n più 1 questa forma può tornare utile in certi casi per semplificare la dimostrazione un esempio è l'enunciato p di n secondo il quale n è divisibile per un numero primo ovviamente p di 1 è falso perché 1 è divisibile solo per se stesso ma non è primo dimostriamo allora che p di n è vero per n è maggiore o uguale a 2 banalmente p di 2 è vero perché 2 è un numero primo e ogni numero diverso da 0 è divisibile per se stesso per dimostrare il passo induttivo utilizziamo la forma forte del principio di induzione cioè supponiamo che p di k sia vero per ogni k minore o uguale a n con n maggiore di 2 se n più 1 è un numero primo allora p di n più 1 è vero quindi possiamo sopporre che non sia primo e che sia scrivibile come prodotto dei numeri naturali a e b diversi da 1 dato che a è minore di n maggiore di 1 per l'ipotesi induttiva a è divisibile per un numero primo p quindi può essere scritto come p per q dove q è quotiente della divisione risulta pertanto che n più 1 è uguale a p per q per b è divisibile dunque per il numero primo p questa dimostrazione richiede l'uso del principio di induzione forte in quanto se n è maggiore di 1 allora n più 1 non è divisibile per n così non si può usare la forma debole osserva che questi esempi non sono formalizzabili nell'ambito della teoria aritmetica al primo ordine nel primo per esempio non è possibile formulare l'enunciato che rappresenta l'assommatorio di numero di addendi dipendente da n mentre nel secondo si parla di rette che non fanno parte della teoria non di meno la tecnica di dimostrazione che utilizza il principio di induzione è ugualmente valida il principio di induzione è anche equivalente al principio di buon ordinamento dell'insieme dei numeri naturali secondo il quale ogni insieme non vuoto di numeri naturali possiede un elemento minimo cioè minore degli altri la dimostrazione dell'equivalenza è semplice ma l'aumento però ti faccio osservare che da questo principio si deduce un ulteriore metodo di deduzione il principio della discesa infinita che viene adoperato per dimostrare che una certa affermazione riguardante dei numeri naturali è falsa il metodo consiste nel ragionare per assurdo supponendo che l'affermazione sia vera e nel dedurre che in questo caso tale affermazione deve valere se si sostituiscono i numeri coinvolti con altri più piccoli ma allora si potrebbe continuare infinito costruendo un insieme di numeri naturali che non possiede un minimo e contraddicendo il principio di buon ordinamento dell'insieme dei numeri naturali per farti capire meglio come funziona il metodo ti do un'altra dimostrazione delle razionalità di radici di 2 supponi per assurdo che radici di 2 sia un numero razionale quindi iscrivibile sotto forma di frazione n1 fratto di 1 con n1 e di 1 numeri naturali allora elevando al quadrato si trorebbe che il quadrato di n1 è un numero pari quindi che n1 è uguale al doppio di n2 con n2 numero naturale minore di n1 allora sostituendo 2 n2 al posto di n1 risulterebbe che anche di 1 alla seconda è pari così pure di 1 lo sarebbe e sostituendo 2 di 2 al posto di di 1 si giungerebbe a dire che radici di 2 sarebbe uguale alla frazione n2 fratto di 2 che ha numeratore e denominatore rispettivamente i minori di quelli della frazione di partenza reiterando il ragionamento si otterrebbe una sequenza infinita di frazione nk fratto di k i cui numeratori e denominatori decrescono all'aumentare dei valori di k in questo modo l'insieme formato da tutti i numeratori o da tutti i denominatori non avrebbe un minimo in contraddizione col principio di buon ordinamento dell'insieme dei numeri naturali dunque radice di 2 è razionale nella prossima lezione concluderemo la discussione riguardante la somatizzazione dell'aritmetica grazie a tutti